ciao ragazzi oggi un video un po più intimo non voglio fare niente di sofisticato non voglio usare il treppiedi e non metterò nemmeno la copertina sarà un video intimo allora stamattina sono andato al lavoro come tutti i giorni 50 chilometri ad andare 50 ritorno quindi la mattina 50 ad andare ho pensato mentre ero in macchina cazzo io quant'anni è che lavoro vediamo un po iniziato nel 2005 un lavoro part time tre giorni a settimana sei ore al giorno 1100 euro al mese il miglior lavoro che abbia mai avuto perché infatti era perfetto naturalmente questa azienda è poi fallita ma io mi ero dimesso prima comunque mi ero dimesso non mandava di lavorare diciamo tempo pieno iniziato a lavorare nel 2007 quindi andiamo a fare due conti 1 2 3 e 4 16 anni che lavoro allora dico cazzo già 16 anni che lavoro stavo in macchina dico porca puttana ma come si fa io io credo a sto punto che non lo so bisogna essere bisogna essere malati di mente per riuscire a sopportare una vita del genere ho pensato ma quant'anni è che faccio sto tram tram 16 anni e chi lo fa per 30 per 40 come cazzo fate come avete fatto e io non lo so proprio come faccio la riva a 70 così quanti di voi hanno questi stessi pensieri non lo so io ritengo di non essere l'unico ho infatti amici che sono andati in crisi con sto cazzo di lavoro e e onestamente ritengo appunto di forse forse essere sulla buona strada per andare in crisi ma non tanto per il tipo di lavoro che faccio adesso proprio il concetto in generale è inaccettabile è un concetto inaccettabile come fate come fa la gente a non rendersi conto è una schiavitù è inaccettabile e poi dico vabbè ma se magari vado da un dottore quello mi aiuta ma il problema che tu i dottori la maggior parte dei dottori sono criminali voi andate là vi danno le stick in dieci anni siete dei vegetali vegetali e allora va a fanculo ho pensato stamattina dico vabbè intanto era arrivato al lavoro ho beggiato e poi forse l'unica cosa che ci salva è il contatto umano con gli altri compagni di schiavitù come li chiamo i colleghi è una cosa che ci vogliono togliere con lo smart working il lavoro nel metaverso vediamo come va ma francamente io se non ci fosse un minimo di contatto umano io onestamente non la sopporterei non la sopporterei e ragazzi non so come la pensate io io vi esorto vi esorto a rifiutare il lavoro da casa vi esorto a fraternizzare non socializzare fraternizzare coi vostri colleghi che sono dei poveri schiavi come voi io la cosa che accetto di meno in assoluto che sopporto di meno in assoluto è l'invidia tra i colleghi l'accoltellamento alle spalle tanto do cazzo andate che carriera volete fare però volete prendere 2000 euro invece che 1700 però avete accoltellato alle spalle povera gente come voi vabbè ragazzi scusate questo sfogo serale e niente non vi dico nemmeno di mettere mi piace tanto vaffanculo non lo mettete e questo video lo vedete in 30 ciao